ah ma matto oh ma sai che sembrate due deficienti dai fai andare viole schiacciala schiacciala vai tira viole ma che risposta ma che lunga linea oh la madonna schiacciala ma non posso spostarli qua no no andata fuori vedi che non basta il canne ma scusami tocca a te oi 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 oi